Capigliatura rasta ma occhio vispo, fiducioso e un po' stanco ma con tanto entusiasmo addosso che gli deriva da una serie di eccellenti risultati. De Mollari, Giuliano, i giovanissimi Miria Rossetti Buse e Matteo Mencaroni che profumano di azzurro. Tanti motivi per cui il maestro della pugilistica lucchese Giulio Monsele sa un po' sorridere. Tra l'altro, grazie al suo alacre lavoro, è entrato a far parte anche dello staff azzurro di Pugilato. Il bilancio del 2019 non è finora affatto malaccio, anzi. Lo reputo un bilancio positivo, i risultati sono arrivati, le soddisfazioni sono tante, i ragazzi che si allenano alla pugilistica lucchese a loro volta sono riusciti ad avere soddisfazioni essendo convocati in nazionale. La Vimba, Miria Rossetti, Buse partirà domani per gli europei a Tbilisi in Georgia. Matteo Mencaroni finisce praticamente il ritiro oggi, era uno dei favoriti per andare a rappresentare l'Italia nei 38 chili e mezzo. Ora, dopo un pa' di settimane di relativo riposo, ci si deve proiettare la seconda parte dell'anno, dove gli appuntamenti di rilievo, anche a livello organizzativo, certamente non mancheranno. Ci sono stati assegnati i campionati italiani nelle fasi regionali per le categorie school boys, junior e youth. Tutti i pugili a Toscana in quelle categorie verranno per tre giorni qui a Lucca con relative squadre e tifosi a partecipare a questi campionati. Per l'occasione abbiamo l'intenzione di far tornare Marvin De Bonlari agli albori come si merita, facendolo partecipare ai quarti di finale del trofeo delle cinture.